Il corso Engagement Attivo, le chiavi per motivare e coinvolgere team e collaboratori offre strumenti pratici per trasformare la motivazione e il coinvolgimento in leve strategiche, promuovendo un ambiente di lavoro stimolante e accogliente. Attraverso tecniche di indagine positiva e progettazione, partecipate ai partecipanti esploreranno relazioni e valori fondamentali per costruire un cambiamento duraturo. L'utilizzo di test di autovalutazione e Canva personalizzati aiuterà a identificare stimoli specifici e gap generazionali, mentre casi reali e best practice nazionali e internazionali arricchiranno l'esperienza formativa. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate, oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.